È arrivato il momento per Nicola Ravaglia, il giovane portiere del Cesena che si è trovato catapultato in Serie A a causa delle infortuni di Antonioli, di lasciare il testimone al titolare. Torna Francesco Antonioli, ma per Nicola Ravaglia c'è tempo per ricordare l'esperienza delle sue cinque partite in Serie A. Per essere l'esordio nella massima serie poteva partire con una bella parata, è partito così, ho avuto l'equilibrio, la forza per poter portare a termine i 90 minuti, per poi fare altre quattro partite. Poi insomma gol o non gol di Seedorf, io penso che sia stata una cosa più fortuita che altro, però io sono soddisfatto perché comunque ho fatto cinque gare, le prime cinque gare, bene. Ho visto i compagni di squadra che mi hanno sempre aiutato, incitato, però comunque anche nei loro occhi vedevo ogni partita che passava sempre più a sicurezza anche nei miei riguardi. Quindi sono contento, sono contento perché comunque sto lavorando tanto con mister Bocchino e sono contento perché voglio dare questa continuità. E poi il momento migliore per Nicola è stata la sua partita contro la Lazio. Ma sicuramente la partita con la Lazio è stata forse dove sono andato meglio, ecco, con un paio di interventi. Più che il gol di Seedorf, che secondo me è visto da portiere, insomma è una cosa più fortuita dell'attaccante che del portiere. Ecco, quello che mi rimane dentro è il rigore di Maxi Lopez perché l'avevo praticamente, cioè, l'avevo intuita, l'avevo toccata, la palla è andata dentro. E lì ogni tanto ancora me lo sognano la notte perché dico che avevo un po' più di fortuna, avevo tirato fuori, sarebbe stata una bella cosa.